Benvenuti ragazzi in questo nuovissimo video di Fortnite Oggi raga facciamo la reaction alla season 3 del capitolo 2 Allora raga ho cercato di spoilerarmi in meno roba possibile Adesso entriamo, vediamo il trailer e invito il frero Almeno facciamo la reaction al pass con lui Allora raga Allora raga 3, 2, 1, via Holy fuck Allora Oceania Aspetti 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 Oh Ah lei La battaglia non è finita perché No finché non lo decido io Ah ragazzi Lei è carina ci sta Ok vabbè poi vediamo Fade Ok Da casa Si calmi frero si calmi Ma c'è tanto questo stile di fade Ok Heavy bucks Ombrellini Ombrello Vabbè minchiate varie Picconi È pronto per la seconda pagina? No Non posso sentire picconi Mi si è bloccato il gioco Ok È pronto? È pronto 3, 2, 1, via 3, 2, 1, via Ok Sì Le minchiate varie Junisi Ragazzi Perché Junisi Non poteva mancare In sto battaglia Zoom Sub Sub È pronto 3, 2, 1, via Via Boh ragazzi ci sta Sinceramente non è che mi faccia impazzire È pronto? Aspetti i piccoli I piccoli sono figli 3, 2, 1, via Ok Non fare il rompi Ma what? Eh ragazzi Lei è bellissima Lei Lei è bellissima Fredo guardi la skin Jules Oppure Jules Reattivo Cosa è che fanno? Per esempio con il gioco Che mistero? Reattivo Bah È pronto? Vabbè no Con la maschera è bruttissima 3, 2, 1, via Ok Sì vabbè raga Tutte queste cagatine qua Non è che mi interessano più di tanto Mi interessano le skin Eccolo Gilles Veggiatore Potevano metterlo come stile Questo qua raga Sincero Si sono sprecati È pronto 3 È pronto 2 È pronto 1 Via Cosa è questa cosa qua? Ah un bet Piano e forte Figo Figo Ma perché non mi fa vedere la mia skin? Non so perché Vabbè pronto 3 È pronto 2 È pronto 1 Figo Sì che stai motta Sì sì lo so Pronto 3 Pronto 2 Pronto 1 Via Cosa è questa cosa qui? Siona No Che brutta Siona Ma raga A me sto skin Non mi piace Dai Sincero Ma che brutta È pronto 3 È pronto 2 È pronto 1 Via Ok Ok È molto Oh Figo Vediamo se è molto Oh Sì sta Ma perché con questa skin? Mi sa che si può fare soltanto con questa skin Ma ne È pronto? Aspetta Questo è del tablano Mi è figo Questo è del tablano Mi è figo Questo qua appena lo prendo me lo metto Giuro È pronto? 3 Yes 2 1 Doppia Aspetta È molto È molto tempestoso Vabbè ci sta Per quando Mi è impazzato Ma doppia skin finale? Cava a dire eterno Ma doppia skin finale? Ma che cosa mi stai dicendo? Aspetti Di un altro Mascherato non mi piace Sincera A me piace A me piace Ti dico verità Mi ricordo molto Cioè se dovessero Non lo userei mai È il cavaliere eterno È figo Eh Quindi abbiamo andato a parte Come si shoppa Sto pass battaglia ragazzi Come si shoppa Un attimo Aumento sul battaglia Voglio pass battaglia Ah qui sta pass battaglia Appunto Massa Non è di che cazzo è Niente C'è il livello di protezione Emozione Ma scusa Aquaman Eccolo Dov'è? Dov'è? Ah Per Aquaman Deve comprare Il passagione 3 E completare tutte le sfide Aquaman Ma cos'è questo ombrello? Dove dove dove? C'è il livello Per sbloccare le parti Di ombrello Completare le sfide Per sbloccare Aaaaaah È la stessa cosa Della skinny Ma soprattutto Quell'ombra Figo Ah ci sta Ci sta Dai Questo qua me lo flexerò Tutti i giorni Colore effetti scia No è figo Comunque raga Come video reaction Spero che Vada bene Vi chiedo di supportarmi Nello shop Con il mio codice Supporta un creatore Che non ho E noi ci vediamo In un prossimo video Salve Si però si calmi